salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ritorniamo a parlare dell'immunatore della playstation 2 perché è stata rilasciata all'ultimo e poi mi è stato richiesto dall'utente che mi segue su youtube loroxem ti ringrazio lorox farò questa guida sull'immunatore della playstation 2 grazie di cuore allora l'immunatore della playstation 2 come vedete il sito è stato cambiato è stato ottimizzato e in più ci ha lasciate varie versioni sia per windows per linux anche per mac andando all'ottimizzazione ok c'è anche la versione 32 bit come vedete le vecchie versioni usiamo invece per magari per i tempi più avanzati ci sono le versioni 64 ok infatti citerà anche varie versioni questi qua queste due versioni qua abx2 sono per i pc di ultima generazione ok per i pc di vecchia generazione bisogna usare questa va bene per le ram quelle che sotto nella ram ddr3 iniziando dal ddr4 in poi bisogna usare questa la configurazione è la stessa non cambia nulla e ci darà due versioni ci darà la versione widget che sarebbe la versione simile al duckstation simbra adesso andiamo a scaricare e poi ci sarà c'è la versione qt che sarebbe la versione normale quella cosa abbiamo usato finora ok no vi correggo la widget mi sembra che quella la normale e la qt sarebbe quella la simile al ddr3 andiamo e sì infatti è così ok questa è la versione normale che abbiamo usato poi vi lascerò il vecchio video che ho fatto per la guida della playstation 2 e vi andete a configurare anche questa la configurazione la stessa non cambia nulla per la nuova configurazione la qt che sarebbe questa qui ok adesso andrò a scaricare e vi farò vedere come è cambiata ok vi farò tutto il procedimento da cavo così magari vi configurò tutto dall'inizio ok quindi ho scaricato l'archivio rar e ci darà questa versione l'avvio normalmente e come vedere si presenta normalmente come il duckstation quindi faremo in questo modo io già ho i giochi scaricati quindi vado sul disco local quindi mi sembra i no h rom no o era f eccolo qua si f rom sony playstation playstation 2 e mi seleziono per la cartella ok facciamo yes e si inizierà a caricare tutti i giorni ottanti quindi attendiamo il caricamento mettiamo metto un atto scusatemi metto un attimo il video in pausa un secondo allora ragazzi si ha caricato la lista giochi e adesso procediamo per la configurazione prima di avviare il modulo ci serviranno i bios i bios si possono trovare su internet normalmente andiamo su google sempre il nostro modulo di ricerca e scrivete la bios e ps2 download vedete ci porterà in una pagina dove possiamo scaricare i bios si trovano comunque alla fine anche sul sito ufficiale di google rom comunque si possono trovare dappertutto una volta scaricati basta inserire all'interno della cartella bios in questo caso oppure se avete un'altra cartella basta cambiare il percorso del directory adesso vi faccio vedere allora disco locale f scusatemi 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 eccole qua all'interno una cartella quindi prendo questo che ho già caricato scusatemi 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 va bene questa cosa che ho fatto vedere è solo a scopo illustrativo cioè io non creo nulla vi spiego solo come fare basta va bene voglio dire ok adesso possiamo far partire qualche giorno però prima di andarlo a far partire vi voglio spiegare un po' come un autore in generale come comporta se inserite qualsiasi joystick tipo come questo qui che ho io che assomiglia a un xbox basta inserirete il pad il sistema solo rileva in automatico e possiamo andare a configurare il nostro modo in questo modo allora se andiamo all'interno di bios come vedete inserendo il percorso già del bios già ci darà i vari bios configurati eccole qua va bene se per caso li avete in questa cartella basta andare su questa tecona e andiamo sull'hard disk esterno in questo caso 3 migliori playstation 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 2 bios e mi seleziono questa cartella va bene il percorso cambia quindi se li rileva va bene ok qua andiamo su set game list qui possiamo cambiare anche il percorso delle rom partono anche i giochi della playstation 1 ad interno esattamente dopo vi darò una riposizione emulatori eccoli qua qui possiamo decidere portate a 50-60 fps la stessa cosa qui qui dovete fare alcuni test bene possiamo mettere anche in full screen quando ap questa riga qui per adesso lasciatela come qui la stessa cosa potete settare eh chiudere i settaggi la grafica vedete possiamo mettere anche in 16 noni qui basta eh possiamo selezionare il nostro aspetto aspettorale cioè mettere in 4 terzi in 16 noni come volete qui dovete fare alcuni test bene per la grafica l'audio pur la stessa cosa la memory card se ce la crea lui vedrai il percorso come vedete che si trova qui è internet va bene non funziona qui ehm le varie ehm informazioni che ehm sviluppa il nostro emulatore bene la cake qui ehm possiamo inserire anche le immagini vedete c'è la cartella proprio cover basta creare inserite le immagini all'interno si visualizza come il ok ehm credo di avervi spiegato tutto qui dovete fare alcuni test per il rendering per il vostro pc dovete eh potete abbassare eh inserire i filtri qui eh sfruttate la vostra video manual hardware ci attiverà quest'altra opzione dove eh possiamo giocare sui vari settaggi per i vari giochi magari se hanno qualche eh difetto bisogna fare alcune prove va bene per farle andare alla meglio ok ma qua ci siamo oppure se per caso volete settare un settaggio gioco per gioco sto per tanto eh cliccando con il tasto destro del nostro mouse come vedete ci darà proprietà e da qui possiamo settare i vari settaggi gioco per gioco questa è una cosa importantissima perchè magari eh senza capire sempre l'emulatore per andare a settare il gioco per farlo andare un po' più fluido oppure togliere qualche bug qui lo potete settare alla meglio bene poi dipende sempre dal vostro pc se arrenda o va bene poi dipende dall'emulatore quindi ci sono tante ok dopo aver settato tutto ah scusatemi i controlli qui possiamo settare i controlli eccoci qua watch out watch out 2 ho inserito il mio controller pad app provano eccolo qua f vai ok analogico sopra tutto sinistra destra 2 1 select start 2 anzi è stato semplificato proprio questo emulatore rispetto alla versione precedente infatti è tutto molto più semplificato molto più veloce da settare e roba ok e qui possiamo decidere se avete un tasto in più sul tasto joystick se accendere o spegnere bene in questo caso cosetto no ok vediamo come sempre lo riavviamo e facciamo partire qualche giochino così ok vedete il gioco funziona possiamo decidere anche se avviando in full screen direttamente qui possiamo mettere per dargli una maggiore grafica in questo caso mi vado a sfruttare proprio la mia scheda video e qui infatti c'è la tecnologia anche vulcan questa è una cosa molto importante qui possiamo visualizzare la stata del degli fps eccetera eccetera possiamo avviando anche direttamente in full screen vedete adesso lo rogo in full screen ok ho abbassato un po' il volume della voce come vedete il gioco ok poi dopo lo dovete settare voi e la grafica per farlo andare un po' da meglio e togliere tutti questi difetti va bene dipende dal settaggio ricordate di andare a giocare sempre su questi settaggi qui anche con l'emulatore aperto come vedete vedete già qualche difetto seppolto ok però dipende dal gioco io li tolgo perchè l'antiblu lo vogliamo eccoci qua fino a qua ci siamo ok non esco dall'odore ok e chiudiamo l'emulatore adesso riapro l'emulatore scatemi andiamo su giochi system bios graphic ecco qua ecco qua andiamo su interfaccia è meglio team list ok facciamo in questo modo andiamo su questo pc e mi andrò a caricare anche i giorni della PlayStation 1 per darvi una dimostrazione che funziona anche quella della PlayStation 1 però l'emulatore deve essere migliorato anche questo bene transform team infatti se sta stanzionando andiamo a tenda sotto il fuoco e qui infatti come vedete ci darà le varie opzioni se mettere il gioco della PlayStation 1 PlayStation 2 alla region e possiamo mettere solo l'italiano farvi vedere ok in questo caso andiamo su i giochi della PlayStation 2 io ne ho alcuni come vedete ai PSC eccetera eccetera mettiamo Crash Bandicoot solo per esempio se avvierà tutto normale bios eccetera vedete infatti non io ho fatto nulla della scansione ok vediamo se già se l'ha scansionato questo qua ok questo qua già se l'ha scansionato dovrebbe partire adesso eccolo qua ricordate di fargli fare prima la scansione e poi avviate il gioco perché sennò vi da problemi non può se l'ha scansionato il volume è abbassato adesso il volume è abbassato adesso vedete vedete però i giochi già partono quando miglioreranno anche questa cosa vedete se abbiamo anche i giochi della PlayStation 1 ok da qua ci siamo ci siamo ci siamo credo ti avrebbe spiegato tutto allora ragazzi spero che la guida sia utile ci vediamo al mio prossimo video il vecchio la vecchia versione è inutile che vi faccio di nuovo il tutorial vi lascio il vecchio tutorial in descrizione così lo configurate è la stessa cosa non cambia nulla e siete a posto va bene ragazzi se volete usare questa versione ok quindi grazie ancora del supporto ci vediamo nella mia prossima guida al mio prossimo video se fa qualcosa scrivetemi sotto ai video come ha fatto il mio utente l'orexm e non solo anche gli altri utenti magari quando avrò un po' di tempo vi farò anche la guida cerco di racconnellarvi tutti quanti va bene vi ringrazio ancora ragazzi per i 1770 iscritti che ho raggiunto il mio canale grazie a voi che avete consigliato i miei video se no non venivano a sapere gli altri utenti del mio canale io non porto solo emulazioni ma bensì anche configurazioni sui file ok alla mia prossima guida ciao a tutti ciao a tutti